Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento solito. Giorgione, 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 a lei grandissimo, a lei grandissimo, grande, mamma mia, allora, Giorgione alla grande, alla grande, allora, io in qualità di Head of Content Creator, Sales, Premium, perché ho fatto l'abbonamento prima, e in qualità di questa cosa, ho visto le prime reazioni social, Com'è? Già, tag, retweet, tweet, link, vabbè, queste reazioni social, cosa è successo? È successo che, tanto belle, tante belle cose, coinvolgimento, però c'è un problema. Che problema c'è? Empatia. C'è? C'è un problema di empatia vostra col pubblico. C'è un problema di comunicazione, capito? C'è una sorta di, cioè, tra di voi, bene, beni, appena arriva il pubblico esterno, tipo, tipo i gatti, capito? Non so se, ora io non ho gatti, non so farli bene, però, c'è bene, però, non so se, gli animali vi piacciono a voi? Sì, 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 sono pazzesco per i, ecco, perché io faccio questa domanda perché, o faccio una cosa, allora, io ho sempre fatto una ricerca, Ancora con questi sondaggi e ricerche. Spiego, cosa ho fatto? Io ho mandato sempre il mio modello in giro, per vedere questa cosa, vedere se effettivamente c'era questa parete, perché un po' come volete, avete tolto la parete dell'anno scorso e ne avete creata un'altra col pubblico, capito? E questa cosa, Giorgio, Marco, questa cosa si vede, cioè, questa cosa passa, non lo dico io, guardiamo, cioè, dipendesse da me, figuriamoci, alla grande, ma, vediamo, guarda che, io, anzi, ma averne, averne, vediamo se, vediamo cosa, guarda, a Comedian, no, 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 killer, killer. Do you like this man? Fufufu, no, no. Lui mi sembra quello dell'era glaciale, il leone. Panariello o un topo, non so perché, un topo, ma non è contro i topi, c'è, io avevo un gerbillo, quindi, non contro i topi, assolutamente. Gialini invece è una, un pastore tedesco, ho un cane quindi, noi abbiamo gli animali. Amiamo gli animali, cani e gassi, senza offendere i cani. Nei topi. Una lucertola. Una lucertola? Con la coda o senza coda? Con. Con la coda, ok. La rariello? Non lo so, sembra un orsetto lavatore. You are in a street, the night, and these two men arrives near you. What do you think? Two men. Run. Run. Che animale ricordo già lì? Nessun animale, però un cane. Ok, però nessun animale, però un cane. Che tipo di animale secondo voi è? Per me è un coiote. Ok, mi stiamo preoccupando? No, anche perché è molto carismatico comunque quando recita. È un grande coiote? È un coiote, sì. Gliel'ha strappata. Diciamolo che erano 40.000 e ce n'era, ecco diciamo. Io l'ho sempre detto che è un coiote lui, eh. Io l'ho sempre affermata. Vedi questo.